Eeeh urka mila urka a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di forti Andiamo a completare la missione di trovare il gettore scale livelli a sud ovest di boschetto bisuto Eccolo qua ragazzi il super gettore tra l'altro vi consiglio di venire qui subito così fate anche il cioppa Prendete il cioppa e poi appunto andate dove volete Eccolo qui sotto boschetto bisuto mi trovo esattamente in questa parte di mappa qua Andiamo qua e prendiamo appunto il nostro caro level house da fucking house Perfetto dunque lo andiamo appunto a scriscio super strane Eccoci qua alt stamp e let's fucking go Andiamo appunto a prendere il gettore scale livello vedete Tutto il scale livello e saliamo di un livello completo Dunque ragazzi ci vediamo in un prossimo video per la live Sicuramente con il prossimo gettore livello per ragazzuoli